France, Europe, Express Helge Achenbach lavorava nel 1986 come Art Advisor per Philem Fasata, fondatore a Düsseldorf del quartier generale europeo della BBDO, la più grande agenzia americana di pubblicità. Naturalmente c'è un legame diretto fra KIT, New York e l'agenzia. Sì, grazie al fatto che ero fra i direttori a New York. E così ho telefonato a KIT e gli ho fatto la proposta. E quando ha accettato, mi ha ordinato una piccola lista di cose da fare. Gli ho procurato i colori, una scala, un mangianastri e abbiamo fatto costruire una tela gigante. Durante le pause, quando si doveva fermare, la gente veniva, ma soprattutto io lo notavo, venivano i bambini. I bambini si avvicinavano in modo naturale e lui si comportava con loro come un bambino. Ogni tanto vado all'agenzia e ancora oggi è così. La gente che ci lavora è orgogliosa da matti di quest'opera d'arte. Anche la nuova generazione, quelli che hanno cominciato vent'anni dopo, per intenderci, e raccontano questa immagine con una serie di bellissime varianti, ovviamente. survivalistico. Grazie. Grazie a tutti.